Ciao ciurma e benvenuti dallo youtuber più veloce del mondo l'unica motivazione per cui vedete questa coppola al posto della bandana è perché come sa chi mi segue sul mio gruppo telegram ho fatto un'operazione ad un alcisti in testa una cosa tranquillissima però comunque sia ci sono dei punti e non posso stringere adesso parliamo della puntata numero 14 della terza stagione di Supergirl prima di andare alla puntata vera e propria voglio fare una breve riflessione ovvero perché fare una pausa di un mese e mezzo due mesi ora capisco che ci siano da portare avanti quattro serie tv compresa black lightning 5 d'accordo però anche tenendo conto di questo sarebbe più conveniente iniziare dopo la serie magari così da portare avanti senza pause quantomeno non di questa portata oppure più semplicemente andrebbe bene fare delle pause minori e portare avanti tutte e quattro le serie assieme posso capire che sia più complicato per chi segue ma sicuramente non è utile non è una trovata intelligente fermarsi per tanto tempo perché per gli spettatori nella maggior parte dei casi è così fatta questa riflessione più lunga di quanto mi aspettassi andiamo alla puntata vera e propria senza fare gli assunti come sempre trattiamo per punti le cose che sono avvenute e quanto mio parere siano state corrette o meno nel corso dell'episodio allora la puntata inizia con una bella cantata karaoke che instaura devo dire una bella atmosfera mi ha incuriosito mi ha divertito appunto tale che avrei voluto la puntata proseguisse sempre in quel modo tutti i personaggi hanno cantato e questo è anche un sintomo importante del miglioramento dello show perché vogliono dare veramente spazio a tutti e in questa puntata per l'appunto ogni personaggio ha la sua rilevanza tranne Sam e la stessa linea che comunque si vede nel finale ma per motivazioni falide che di cui parleremo fra poco ok al centro della puntata c'è Win Shot tant'è vero che la puntata si chiama Shot Through Farts e questo perché evidentemente Win è un personaggio che troppe volte è stato messo nell'angolo abbandonato e pertanto fare un filler su di lui che è quasi totalmente un filler non totalmente ma al 95% lo è è interessante per quanto questa non sia il miglior momento ecco non è il miglior momento per fare un filler perché abbiamo appena ripreso sarebbe stata forse meglio una puntata impattante devo dire che non tagliando conto di questo quindi vautando la puntata per quello che è senza consigliare un attimino la stagione è venuta veramente bene questo perché abbiamo un rapporto tra Win e la madre sviluppato veramente bene che ci permette di riconoscere il background di Win che troppo spesso è stato messo nell'angolo ecco e c'è una ripresa del personaggio per tale ragione è veramente interessante è un personaggio come dicevo poc'anzi troppo spesso sotto tono ed in disparte a fare la madre di Win c'è Lori Metcalf se pronuncio bene che evidentemente la conosciamo per essere stata innanzitutto la madre di Sheldon e di Bing Ben Theory e poi la madre di Lady Bird e Lady Bird per l'appunto fa sempre il ruolo della madre ma con sfaccettature nettamente differenti questa attrice è stata candidata all'Oscar quest'anno e devo dire meritatamente perché è veramente capace e ha dato quel qui di in più alla puntata un'attrice vera come ce ne sono pochi nella serie ma nella CW in generale e in generale ovunque che ha risollevato il tono dello show ecco perlomeno per questa puntata quindi veramente complimenti a Lori e complimenti anche a Win che secondo me ha intraspettato bene il personaggio ed è stato anche interessante quello che hanno fatto gli sceneggiatori proprio nello scrivere il rapporto tra questi due caratteri che è venuto a mio parere veramente bene un rapporto chiaramente inusuale che nella realtà non esiste praticamente mai certamente non in questa modalità ma comunque si è sviluppato veramente bene un comparto tecnico incredibilmente ben gestito ragazzi la camera si sposta continuamente e si sposta bene veramente c'è un passaggio da un personaggio all'altro senza cambio di inquadratura quindi con uno spostamento velocissimo della camera che non è facile e che è stato invece gestito benissimo leggeri piani sequenza in continuazione camera che si avvicina e si allontana dai personaggi per mostrarci da lontano e da vicino completamente cosa stanno facendo che espressione hanno in volto e quant'altro ecco come dico sempre non sono un esperto del settore ma mi rendo conto un attimino avendo un'esperienza avendo visto un gran numero di prodotti televisivi e cinematografici di quando effettivamente i miglioramenti sono palesi e in questo caso si può notare che Supergirl è forse la serie che se facciamo una media globale della stagione ha dato di più dal punto di vista del comparto tecnico ed in particolare quando parlo di comparto tecnico mi riferisco alla regia soprattutto ecco alla regia quindi veramente complimenti a chi ha gestito questo settore John Jones con il padre demenza ecco il padre adesso si è ammalato di demenza e c'è infatti per questa motivazione un bellissimo abbraccio finale con Alex che aveva spronato il padre evidentemente a parlare al trilio di questo tematica forte ecco che però sta bene nella serie perché è una serie leggera che però alcune volte inserisce questi messaggi questi insegnamenti se vogliamo abbastanza potenti che ci stanno bene quindi veramente 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 io devo chiedere devo ringraziare Supergirl perché ha fatto passare un messaggio senza appesantirlo troppo perché in un contesto abbastanza leggero diciamo ha inserito qualcosa di interessante di forte di drammatico ecco con interpretazioni anche abbastanza soddisfacenti devo dire che sono rimasto stupito non è una puntata grandiosa ecco però Supergirl dalla decima credo a questa parte ha migliorato tantissimo il suo il suo modus operandi ecco proprio il modo in cui si pone allo spettatore proprio come funziona la trama come si muovono i personaggi come funziona anche il comparto tecnico un miglioramento secondo me eccellente sono rimasto parecchio colpito ecco e se Supergirl va avanti di questo passo migliorandosi sempre compete sicuramente per non dico per miglior stagione ma sicuramente potrebbe superare Legends perché ha avuto un finale pessimo Supergirl si gioca tutto ancora molte puntate 6 o 7 forse anche di più forse 8 e se si rigioca bene per l'appunto può fare la sua bella figura perché pur avendo avuto un inizio non proprio disastroso ecco ma più che altro una parte centrale disastrosa adesso si sta riprendendo la grande spero continui così unica cosa che veramente ho detestato è quando la tipa che se la faceva con il padre di Wynn lo ha arrotolato lo stava strozzando con uno e insomma lì era forse un po' troppo ecco come gioco da qualche parte Supergirl è l'unica serie che mantiene veramente la vena fumettistica e questo è positivo però ci sono degli eccessi come questa cosa da L'OIO non mi piace molto non riesco neppure a dirlo L'OIO lentamente quindi una puntata che secondo me un 6 e mezzo 7 se lo prende veramente bene e questo perché manca anche il villain il villain di questa stagione secondo me la imbruttisce tanto il villain dovrebbe essere però la cosa più importante ecco perché la stagione in sé per sé ha ancora dei grossi difetti se riescono a far riprendere il villain stesso forse le cose iniziano a funzionare altrimenti i filler come questo saranno le cose migliori della stagione tutta io ho più o meno concluso ragazzi se non ho editato è perché devo editare Flash che come sapete comunque è sempre una priorità per quanto non sia assolutamente l'unico contenuto che porto sul canale come ve ne salete se conto pertanto vi chiedo un like di iscrivervi al canale di passare in descrizione da Supergirl Italia a Serie TV grandissima pagina che segue la serie e chiaramente a tutti gli altri link che ci sono ancora un saluto da Capitano Mandana e ci vediamo più tardi con Flash grazie a tutti grazie a tutti